Era un campionato del mondo facile, tra l'altro lui l'anno scorso correva nella Mitchelton la squadra di Yays e ha cambiato squadra perché? Perché l'anno scorso non l'hanno portato né al giro né al tour e quindi ha preferito andare in una squadra come la Lotto dove tutti corrono per lui, o quasi tutti corrono per lui. Marta Bastianelli, buon pomeriggio anche a te, diceva Fabio Genovesi, quando c'è una volata lui non è felice.